Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Visto, 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 già visto, Winston. C'è anche un po' che non fanno cose nuove su Ghostbusters? La fallo tu? È un amico che l'ha fatta. Ma va? Tre anni fa, guarda. La faccio vedere. Guarda che roba. Guarda che roba, guarda che roba. Carino, carino, ambizioso, regista pretenzioso, però si può fare meglio. Beh, infatti ne sta già girando un altro. Ma dai. Sì. Tra l'altro io e te siamo i protagonisti, lo stiamo già girando insieme. Ma per quello che ci vediamo così spesso? Però stavolta stiamo puntando proprio un po' più in alto, vorremmo fare una cosa un po' più in grande. Ci vogliono i finanziamenti. E infatti stiamo girando uno spot per chiedere dei fondi. Ma per quello che c'è la telecamera? A volte il tuo intuito proprio mi sconvolge. Sembro scemo. E invece, e invece, perché se avessimo più soldi dei fondi faremmo una cosa veramente bella e i fan gli appassionati finalmente andrebbero a vedere qualcosa che merita di essere visto. Giusto? Sì, sì, no. Ci mettiamo per esempio fantasmi. Ah! Eh? Eh? Caga, eh? Non dimmi con la roba sulla faccia? Eh, io sono fantasma favacino. Vabbè, magari fantasmi con calma vediamo, decidiamo, però almeno gli acchiappa fantasmi... Beh, magari investiti dalla chiappa fantasmi. Minimo! Eh, magari anche con l'attrezzatura da chiappa fantasmi. Ander, figo, funziona? Sì? Sì? Allora, poi lui bello ed espressivo, devo dire, però magari... Boh, lo facciamo interpretare a un volto noto? Beh, buongiorno. Ce l'abbiamo già come fantasma. Poi lui bravo e, devo dire, anche espressivo, però magari lo facciamo interpretare a un volto noto. ALEGRIA! Eh? Eh? Volete il bottone 1, il 2 o il 3? 3. La certa, la 3. Beh, però, dico, se potessimo vedere magari delle ragazze, dico, per rendere più interessante, un po' di carne fuori, no? Ma che te guardi, tu? Ti stai nascondendo con la protonga... Eh, adesso vedi dove metto sto protonga... Ah, ah, questo non lo farei. Beh, ragazzi, vedete che c'è un bel po' di lavoro da fare. Sì, però, allora, le idee ci sono, le persone anche, mancano solo un po' di soldi per sfruttare al meglio i nostri mezzi. Quindi servono i soldi. Eh, quindi cacciate i soldi. Quindi? Cacciate i soldi! Ci servono i soldi! Ci sono idee! Ci sono persone! Mancano i soldi! DAI! Ho detto per i vici. Funziona, quindi? Cacciate i soldi! Li soldi! Ragazzi, se ci sosterrete col crowdfunding, donando qualche soldino, volete vincere anche diversi premi, DVD, starete sul set insieme a noi. E possiamo anche portare nuovi formaggi! E mi hanno ricaricato di 5 euro! Oh, i panti! A quello si arriva il crowdfunding! E appunto... Se avrò ancora il!! E l'avrò! E' l'avrò! E' l'avrò! E' l'avrò! E' l'avrò! E' l'avrò! Grazie a tutti.